Sotto le ali delle mamme cresce ben protetta. Tra un gioco in acqua e gli insegnamenti per stare al mondo, la nuova generazione di anatroccoli del germano reale, fiero capostipite della maggior parte delle domestiche anatre, che a casa massima in provincia di Bari, nell'impianto di depurazione realizzato e gestito da Quedotto Pugliese, ha deciso ormai da anni di far casa. Corpo robusto, collo corto, becco piatto e largo, scuotono la coda e quel capo dalla chioma marrone, pronta a spiccare in un capo verde. La colonia starnazza calma nel vederli crescere e riconosce i loro amici tecnici dell'impianto. Restituiamo l'acqua in natura, contribuendo a conservare la biodiversità negli ambienti acquatici e terrestri, con impianti e sistemi di depurazione che ne mantengono alta la qualità, donandola, come sottolinea la direttrice generale di Aquedotto Pugliese, Francesca Portincasa. Tornano ogni anno, nidificano, si riproducono, testimonia come la depurazione, come noi diciamo da tanto tempo, è una risorsa per il territorio e non è un problema. È una risorsa perché la buona depurazione incrementa la biodiversità, attira specie, animali, fa crescere piante, quindi migliora il nostro territorio. E anche grazie alla buona depurazione che noi negli ultimi anni incrementiamo il numero di bandiere blu in Puglia. I Germani Reali sono sediati naturalmente sulle impianti di depurazione, proprio perché hanno trovato un ambiente ecosostenibile in linea con il processo di depurazione di tipo biologico, appunto, delle acque reflue urbane. La colonia si è insediata in circa il febbraio del 2020. Dopo pochissimo tempo, meno di un mese, abbiamo potuto apprezzare già le prime covate. Nell'arco di questo tempo sono state già diverse volte, diverse decine, i pulcini che hanno comunque avuto la possibilità di beneficiare di questo oasi.